Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Dopo un'estate tra l'altro anche complicata per molti cittadini che si sono potuti permettere magari una settimana di vacanza al posto di due settimane lo scorso anno, in molte località si sono registrate anche delle affluenze inferiori alle aspettative. Un'estate anche complicata durante la quale dal punto di vista mediatico una parte di opposizione ha preferito cavalcare scemenze come frasi di Gian Bruno o Libro di Vannacci. Oggi milioni di italiani iniziano a fare i conti con la realtà e anche il governo Meloni. A luglio la produzione industriale è calata allo 0,7% e la Commissione Europea ha appena rivisto a ribasso anche i prodotti interno lordo dell'Italia e dell'Europa. A posto che io non ho mai ritenuto che fosse il prodotto interno lordo la migliore categoria per giudicare uno stato di salute di un paese, però è attraverso il PIL che poi si possono o non possono fare una serie di manovre anche di leggi. E' l'unità di misura, sì. Dal punto di vista degli sbarchi è una roba drammatica. Io ricordo quando Libero, un giornale di riferimento del centro-destra in particolare, un giornale che per me sostiene il governo Meloni, pubblicava in prima pagina la scritta Da ora non partiamo più. Tant'anni in Africa, circola la voce che c'è un governo duro, quindi meglio stare a casa. Scemenze, propaganda. La situazione per me è complicata. Il paese è a pezzi. L'inflazione è calata a 5,5% ma in realtà, io lo dico sempre, il carrello della spesa in realtà è drammaticamente alto. Milioni di cittadini non hanno più denari dopo due anni di Covid, ovviamente la Meloni non c'entra niente, dopo un governo Draghi che per me ha preso delle scelte scelerate e dopo un anno di governo Meloni durante il quale per me si è fatto soprattutto propaganda. Questo è lo stato dell'arte. Il paese è a pezzi. Mi auguro che possa dedicarsi al sociale. Mi auguro che possono smettere di fare propaganda oggi in vista addirittura delle elezioni europee, Giovanni, perché è evidente che Salvini e Meloni si stanno facendo e si faranno una battaglia elettorale prossima e mi auguro che si possa cambiare rotta anche rispetto alla guerra in Ucraina, che è la problematica principale intorno alla quale è drammaticamente ruotato. Bonaccini, il suo parere è vero, Giorgia Meloni in difficoltà sui due fronti, economia e immigrazione che rivelano la pochezza dei programmi o la capacità di fare propaganda. Bonaccini, Bocchino. Mi pare di sì, nel senso che non c'è bisogno di essere esponente del Partito Democratico per dire che a fronte di chi diceva taglieremo le accise quando arriveremo al governo, la benzina costa come non mai, oppure che diceva porti chiusi, è finita la pacchia, non si sa più dove collocare gli immigrati. Tenga conto che oggi nell'ordine Eugenio Gianni ha detto CPR in Toscana no, Zai ha detto CPR in Veneto non me l'ha mai chiesto nessuno, Compatcher, provincia autonoma, di Bolzano ha detto se si fa solo per 50 immigrati non che arrivano da altre regioni ma solo della provincia di Bolzano. E parliamo di esponenti di partiti politici diversi, di maggioranze diverse. L'economia va nelle direzioni in cui ha detto molto bene di Battista, non devo aggiungere altro. Io posso aggiungervi due cose, sulla sanità pubblica il ministro Schillacci ha detto al suo governo servono subito 4 miliardi di euro, i presidenti delle regioni guidati nella conferenza da Massimiliano Fedriga che non mi pare iscritto al PD ha detto ci vogliono un minimo 4 miliardi di euro subito. Il governo Meloni ha indicato nella mia regione, col ministero della salute un mese fa, la regione prima per qualità e quantità di livelli essenziali di assistenza erogati. Eppure anche in Emilia Romagna sta peggiorando la qualità della sanità pubblica perché non si trova personale che stanno sottofinanziando. ultima cosa mi scusi, se l'economia non va bene bisogna fare investimenti, sul PNRR se vuole dopo ne discutiamo siamo verso il disastro e i fondi sviluppo e coesione a dicembre ci hanno detto che arrivano a febbraio, a febbraio a maggio, a maggio a luglio siamo a settembre, non sappiamo quei 50 miliardi di euro aggiuntivi al PNRR quando arriveranno. Italo Bocchino, due opposte fazioni, poi vedremo quando parleremo anche del PNRR. delle alternative dicono i fatti che stanno condannando Giorgia Meloni. Al di là della propaganda, al di là della sua abilità nel raccontare, nel descrivere i fatti sono contro. Bocchino. I fatti però non sono quelli che avete raccontato. Alessandro I Battista ha dato i numeri, in senso anche metaforico, e li ha dati sbagliati. Ragioniamo sui cinque parametri principali per capire se la situazione economica o sociale è positiva o negativa dall'avvento della Meloni al governo. Primo dato, il PIL, Fondo Monetario Internazionale, dice che l'Italia crescerà nel 2023, primo anno di governo intero della Meloni, 1,1%. L'area euro 0,9%, la Francia 0,8%, la Germania perderà lo 0,3%. Quindi l'Italia fa meglio dell'area euro, della Germania e della Francia. Prima che arrivassero i dati del trimestre, lei sta citando. No, 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 post trimestre. Cartello 30. Sono i dati post trimestre. Sono i dati post trimestre. Attenzione, però fammi finire, Giovanni. Un altro trimestre. Se mi interrompete appena parlo, già sono uno contro due. Allora, lo spread, vi leggo i numeri, è sceso da 245 a 178 di oggi. Il PIL l'abbiamo detto. L'occupazione, ottobre 2022, quando c'era Draghi, l'ultimo mese di Draghi, 60,5%. L'ultimo mese, verificato dall'Istat, 61,5%. Mettiamo anche che i ristoranti sono pieni. Un attimo, un attimo. Perché se la ricorda questa storia. Io lo so che il mio ruolo è difficile. Poi parliamo dei ristoranti, dopo parliamo anche dei ristoranti. Quindi l'occupazione è al 61,5%, il più alto tasso di occupazione dal 1977. L'inflazione, Draghi ha passato la campanella a Giorgia Meloni nell'ottobre 2022, con l'inflazione all'11,8%. L'ultimo dato Istat, l'inflazione è meno della metà, 5,4%. Le esportazioni, 2022 è stato l'anno boom dell'Italia delle esportazioni. Quest'anno è cresciuto addirittura ancora di più del 6,8%. Ma scusate, un paese dove il PIL cresce più degli altri paesi d'Europa, l'occupazione è ai massimi dal 77% e lo spread è dimezzato. Che altro vuole? Che altro vuole Giovanni? Presto, resto. Ma non so dove vive a Bocchino, ma l'Italia, io non vedo il ritratto dell'Italia, però lei ha parlato. La professoressa non contesterà immagini ai dati economici, perché io le chiedo dal punto di vista ideale. No, vorrei dire questo. Ah, sì, c'era quel cartello. Quello che mi impressiona veramente, soprattutto devo dire in questi ultimi giorni, queste ultime settimane, è che fare i profeti del complotto forse, forse aiuta quando si è all'opposizione, ma non aiuta quando si governa, no? Perché c'è questo, diciamo, scarto, no? E secondo me la Meloni punta molto su questa visione complottistica. Io ho letto l'ultimo libro che lei ha pubblicato con Sallusti e vorrei leggere molto rapidamente un passo che mi ha molto colpito, in cui tra l'altro lei parla della migrazione e lei dice che l'immigrazione legale di massa è uno degli strumenti principali della guerra contro le identità. Sapevi che la Moldova, ad esempio, ha un reddito capito inferiore a quello di gran parte dei paesi del Nord Africa, eppure non ho sentito nessuno stracciarsi le vesti per favorire l'immigrazione moldava. E ti sei chiesto perché? Perché il Moldavo, in quanto europeo, è troppo affine alla nostra cultura e dunque non è funzionale al disegno del cosiddetto melting pot, cioè di mescolare il più possibile per diluire. E' molto più funzionale a questo disegno il migrante africano. Ma questo è il libro di prima o prima di ora? Allora, questo è il nuovo libro, il libro scritto insieme a Sallusti. Da illuminata, diciamo, da Premier europea. Quindi è l'ultima versione, diciamo. Questa visione della migrazione, quindi di un fenomeno così complesso come la migrazione, queste righe che ho letto secondo me sono emblematiche perché il modo in cui viene affrontato il problema della migrazione dice tutto, è emblema del modo in cui viene fatta politica, forse non userei nemmeno. Che modo è? E poi sentiamo la risposta del direttore e poi il disbattese. E' un modo di dare la colpa ad altri, sono gli altri che hanno la colpa. E l'Europa, sono gli stati africani, sono i vari nemici, cioè non si assume la propria responsabilità. Chi va al governo per un fatto di serietà deve assumersi la propria responsabilità. Allora, facciamo di Battista e poi Italo Bocchino. Flash, i dati di cui ho parlato prima sono veritieri. Prima ho parlato di un calo industriale 0,7%, dall'altro aggiungo anche la dichiarazione del ministro Urso, Made in Italy, segnali di allarme ma sono attesi. Ancora, è vero che il PIL era in positivo, è in positivo rispetto al Covid, è comunque un dramma, più 0,9%. Considerate che la Russia crescerà quasi il doppio dell'Italia nel prossimo anno, la Russia sotto sanzioni. Ma è evidente quello che ho detto, ovvero la Commissione Europea, Gentilonia, ha rivisto a ribasso le estime del PIL. Ma io temo che non sia un discorso di numeri ma di percezione, di vita confiuta. Diciamo, della percezione che vi faccio vedere solo un dato, 6.700 euro in potere d'acquisto persi due anni e non credo che vadano a dire totte con Draghi, totte con Meloni. Identici e la maggior parte delle cose che i comuni mortali compriamo sono aumentate non del 5,5% dell'infrazione ma del 10, 20, 30%. Altra cosa, prima Bocchino mi ha risposto però non ha chiaramente parlato di immigrazione perché su questo non possono dire nulla. Qual è il problema di immigrazione? Il problema di immigrazione è che oggi io vedo mesi di prima silenzio, la scelta anche di Bocchino che non ne ha parlato. A fronte di dati drammatici, quasi il doppio del numero di sbarchi rispetto all'anno precedente, la prima strategia del governo Meloni è stato non ne parliamo. Salvini faceva 18.000 dirette, si sarebbe incatenato a Lampedusa, invece oggi pubblica Gattini, parla di Milan, fatta per Ulan e compagnia cantante. La Meloni stessa cosa, quindi dopo mesi di silenzio hanno scelto e dopo il decreto cutro che non ha sistemato nulla, hanno scelto un'altra strategia che hanno abbandonata in due settimane, ovvero il complotto. Ricordo quando Tajani, ministro degli esteri, e Crosetto, ministro della difesa, la stessa Meloni incolpavano la Wagner-Putin di essere dietro agli sbarchi a questo attacco all'Europa. Scemenze, cioè fake news, per me anche ministri che mentono si dovrebbero dimettere, non hanno più ripreso questa strategia perché sono minchiate, scusate il termine. Oggi a fronte di un disastro, e ricordo quando la Meloni parlava sette giorni prima delle elezioni, la mia strategia è sempre la stessa, blocco navale davanti alla Libia, hotspot da costruire in Africa e qui potranno entrare soltanto i rifugiati. Allora, il blocco navale non c'è stato, gli hotspot non si costruiscono in Africa perché non sono riusciti dal puntista geopolitico a stringere accordi seri, anzi il piano Marshall, il piano Mattè di cui parlava la Meloni è un'altra scemenza e purtroppo il piano Marshall in Africa lo sta facendo la Cina. E l'ultima cosa, anziché costruire gli hotspot in Africa, li costruiscono in Italia e come diceva prima Bonaccini, che ha ragione, nessuna regione, né di centro-restre né di centro-sinistra vuole chiaramente strutture del genere. Italo Bocchino, il tema dell'immigrazione si parte dicendo non partiranno più, ne arrivano di più, allarghi gli hotspot e allunghi i tempi per fare le carte per eventualmente rimandarle indietro quando si sa che indietro non li puoi mandare. Il tema dell'immigrazione è un tema globale enorme, abbiamo l'Africa che sta esplodendo per ragioni economiche, per ragioni di guerra, c'è un colpo di Stato ogni 20 giorni in Africa, il Sahel in particolare è una polveriera, scappano da quella realtà, finiscono spesso nelle maglie di quella criminalità che gestisce questi flussi, finiscono in regioni mediterranee che poi dopo li mettono sui barconi, purtroppo per ognuno che finisce sul barcone ce ne sono 100 che sono morti alle spalle nel deserto, quindi dobbiamo porci anche questo problema e arrivano in Italia. L'Europa che fa? È un problema globale, l'Europa dovrebbe porsi il problema, i presidenti delle regioni non li vogliono, i singoli nessuno vuole a casa ospitare tre migranti per solidarietà e le regioni europee guardano dall'altra parte. Qual è l'unico elemento di novità che noi abbiamo avuto? L'elemento di novità che noi abbiamo avuto è che per la prima volta dalla nascita dell'Unione Europea c'è stato il presidente della Commissione Europea che è andato a Lampedusa e ha detto decidiamo noi chi entra in Europa. È la prima volta, c'è stato un passaggio storico la scorsa settimana, ve ne siete accorti o non ve ne siete accorti? No, decidiamo. Se posso parlare, io so che in queste trasmissioni devo fare una minoranza, ma esiste il diritto di tribuna, lei è un importantissimo insegnante e sa che esiste il diritto di tribuna, quindi il diritto di tribuna non me lo potete negare. Quindi il tema c'è un presidente dell'Unione Europea che ha detto accanto al primo ministro italiano, al presidente del Consiglio Giorgio Meloni, basta, decidiamo noi chi deve entrare. Cosa bisogna fare? È complicatissimo. Bisogna intanto provare a rifare l'operazione Sofia, cioè a mettere le navi militari di tutta Europa, a bloccare il Mediterraneo per spiegare, guardate, qui in Italia entrano tutte le persone che servono a noi e a cui serve dare solidarietà. Assorbibili. Però assolutamente li dobbiamo filtrare con un lavoro anche da fare in Africa. Professoressa e poi Bonaccini, perché non le interviene su questo. Prego. Allora, io penso che anzitutto la scena di Ursula von der Leyen in Tunisia, Ursula von der Leyen, ha umiliato tutta l'Europa e l'accordo con la Tunisia, che veramente adesso sembra anche in bilico, è un accordo vergognoso, no? Da tutti i punti di vista. Tra l'altro è un memorandum, no? Cioè, ricordiamoci. Tra l'altro è un memorandum. Io, il punto è questo, vede anche dalle parole di Italo Bocchino, li mettono sui barconi, no? Cioè, c'è un modo di analizzare, di vedere la migrazione, che è assolutamente miope, cioè il modo complottistico, anche tutto il discorso contro gli scafisti, no? Cioè, come se fossero gli scafisti i colpevoli responsabili. E li vanno a prendere casa per casa. La migrazione è una grande rivolta, questa è la verità. Ed è una grande rivolta, soprattutto della generazione dei giovani africani, perché vedono l'enorme disparità. Il conflitto, aggiungo soltanto queste cose, il conflitto che c'era una volta tra, come si diceva, la borghesia proletariato, eccetera, eccetera, adesso è un conflitto, evidentemente, che riguarda dove sei nato. Allora, se sei nato nella parte sbagliata del mondo, è chiaro che c'è. Non ci vuole rimanere. Un'ultima cosa, sui centri di rimpatrio. Allora, io, siccome sento più o meno da sinistra e da destra un po' le stesse cose, cioè io voglio dire, con la violenza, con la spietatezza, non si risolvono i problemi. I centri di rimpatrio sono dei centri, dei campi di internamento. Noi vogliamo fare in Italia dei campi di internamento, di concentramento, dove persone che non hanno commesso nessun reato, e questo è importantissimo, vengono detenuti in gabbie, perché io li ho visti come stanno, in gabbie per 18 mesi. Allora, do la parola a Stefano Bonaccini. Abbiamo recuperato con la redazione il lodo di Battista Bocchino. Allora, la Commissione ha tagliato le stime di crescita italiane per il 2023, 23 per il prossimo anno, per il 2023 dall'1 e 2 si passa allo 0,9, per il 2024 dall'1 e 1 allo 0,8. Nel 2024 siamo i peggiori tra le sei maggiori economie dell'Unione. Sono vere e sono, quando ho scritto male, delle stime, siamo dietro Germania, Spagna, Francia, Olanda, Polonia, Istat, Commissione, Unione e Europea. Inflazione, Carrello, Spesa, 9,4. Stai facendo le previsioni del 2024 con la palla di vetro. No, con i dati della Commissione. Scusa, io ho citato... Non ho citato quelli vecchi, prima della frenata della Germania. Però fatemi parlare. Io ho citato il Fondo Monetario Internazionale. Possiamo far prendere il Fondo Monetario Internazionale? Perché se io cito il Fondo Monetario Internazionale, a te ti portano la velina di un altro ente. La velina, sono i dati della redazione. Il Fondo Monetario Internazionale esiste, è la più alta autorità, no? Allora, fidiamoci del Fondo e cresceremo di più di quello che dice la Commissione. Piccola pausa ora. Scusi Bonaccini.